Allora, io in realtà sono un'assistente per cui quando il dottore mi ha chiesto di venire al corso ho pensato che mi sarei anche un po' scocciata, perché ho detto tutti i termini che magari non conosco e quindi questa cosa mi spaventava anche un po'. Quattro giorni di corso sono tanti per un assistente. In realtà poi sono riuscita a seguire benissimo il dottore Fabio, quindi penso o sono io che sono abbastanza formata grazie anche al dottore o comunque lui tende a spiegarsi in maniera facile anche per chi fa l'assistente e a tal proposito magari potrebbe pensare anche di fare un corso per gli assistenti perché è ovvio che se noi riusciamo a capire come meglio seguire i dottori sono anche loro magari più avvantaggiati, anche nella compilazione delle schede o anche per quanto riguarda le radiografie, le fotografie insomma. Tante cose le sapevo, ma tante ne ho imparate, quindi è un corso che sicuramente mi è servito tanto e mi piacerebbe vederne anche un altro in verità perché mi sono trovata molto bene e ho imparato un sacco di cose che non sapevo, quindi grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.